Torniamo a Roma, presentato dall'Agenzia Capitolina sulle tossicodipendenze, il progetto ECO, un modello sperimentale di intervento per la cura di giovani e adolescenti effetti da disturbi psicopatologici associati all'uso di sostanze stupefacenti. Giorgia Rombolà. Adolescenti o giovani adulti, in alcuni casi poco più che bambini, hanno problemi psicopatologici associati all'uso di sostanze stupefacenti. Soggetti deboli, fragili, spesso ignorati, per loro è nato il progetto ECO, realizzato dall'Agenzia Capitolina sulle tossicodipendenze in collaborazione con il Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi. 394 i giovani contattati in due anni, 41 quelli presi in carico nell'ambito di un progetto che unisce prevenzione e trattamento, colloqui, terapie di gruppo individuale, attività ludiche e psicomotorie. Il 59% dei giovani in terapia fa uso di cannabis e alcol, il 37% usa abitualmente cocaina, ma le dipendenze sono anche quelle da internet nel 7% dei casi e in misura minore dal gioco d'azzardo. Fondamentale il supporto delle famiglie è coinvolta nelle attività di un progetto che domani formalmente chiuderà i battenti. Il Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio ha chiuso il rubinetto. Il progetto ECO non potrà contare sui 150.000 euro governativi che gli hanno permesso di sopravvivere, ma i promotori non si arrendono e promettono, andremo avanti. Domani formalmente sarà l'ultimo giorno in attività di questa attività progettuale, ma sicuramente andremo ben oltre attraverso risorse di qualunque natura che già da subito ci stiamo mobilitando per poter riuscire ad individuare.